un altro modo di installare l'extended matrix tool è attraverso un software compatibile con GitHub perché l'extended matrix tool è in continuo sviluppo quindi è possibile che dopo pochi giorni dopo poche settimane di utilizzo del software diventi obsoleto perché nel frattempo su GitHub sono state pubblicate delle nuove versioni cosa significa? significa essenzialmente che bisogna disinstallare la propria versione tornare sul sito di GitHub extended matrix tool scaricare una nuova versione e ristallarla è comunque un'operazione di circa 5 minuti per risparmiarsi il tempo è possibile aggiornare attraverso un software compatibile con GitHub per esempio GitHub Desktop vi faccio vedere prima il processo abbiamo M Blender Tools è possibile premere il pulsante di aggiornamento e lui aggiornerà l'add-on si aprirà tranquillamente Blender e ci si ritroverà con l'ultima versione disponibile dell'extended matrix tool come si fa questo setup innanzitutto bisogna scaricare GitHub Desktop eccolo qui GitHub Desktop è presente sia per Windows che per Mac è possibile scaricarlo dalla pagina di riferimento vi metto il link qui sotto dopo averlo installato lo si avvia e si va a premere Clone Repository bisogna clonare un nuovo repository il repository che va clonato va clonato dalla pagina del progetto quindi si andrà su URL l'ultimo tab si va a recuperare il nome della pagina qui GitHub Xalmoxes meno LARAN ecco qui la pagina Xalmoxes LARAN EM Blender Tools ecco qua questo link qui si copia si va in GitHub lo si incolla qua dentro ora il percorso per installare questo add-on all'interno di una cartella dove Blender sia in grado di leggerla bisogna andare in questo path per quanto riguarda il Mac e si usa un altro percorso per quanto riguarda Windows i due percorsi ve li incollo all'interno della spiegazione di questo video per comodità naturalmente dovrete sostituire il nome utente del vostro computer nel mio caso è Emanuel Demetrescu e si preme il pulsante Clone a quel punto vengono scaricati sul software sul computer l'add-on Mblender Pulse da quel momento in poi sarà sufficiente premere Fetching Origin per riscaricare per upgradare l'add-on quindi ogni tanto lo potete tranquillamente fare e vi ritroverete con l'ultimo add-on disponibile per attivarlo una volta installato tramite GitHub Desktop si fa la stessa cosa si vanno le preferenze lo si cerca qua em tools lo troverete disattivato in questo caso c'è ed è attivato e lo si spunterà per attivarlo sempre